E' un vero straordinario in questa cornice splendida quale è l'auditorium della conciliazione a un passo da San Pietro a Roma e allora ancora ben trovati in questa vigilia di Natale che questa sera ci regala il tema di una canzone, di un film straordinario il film è del 1997 e ogni volta che lo si vede davvero ci regala un'emozione straordinaria è un film che ha vinto ben tre premi Oscar e sto parlando della vita è bella del grande Roberto Guilini che è un film che ha vinto ben tre premi Oscar, benvenuto dal maestro Nicola Piovani per la colonna sonora che questa sera vogliamo riproporvi il tema del film La vita è bella interpretato per noi da Annun e dal flauto di Andrea Griminelli Grazie. 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 E noi siamo arrivati davvero al gran finale. Io vorrei celebrare proprio questa bellissima serata passata in vostra compagnia invitando tutti gli artisti sul palcoscenico. Prego, raggiungetemi. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie.